RELAZIONI Il contenuto di tutta questa ricerca poi era stato tradotto anche in un libro divulgativo che avevo pubblicato con Feltrinelli nel 1981, quindi parliamo di tanti anni fa, che aveva come titolo L'aggressione nascosta, limiti sanitari di esposizione ai rischi. Che cosa significava quella indagine? Io avevo fatto un'indagine multifattoriale sui vari rischi ambientali, avevo correlato tutti i rischi fra di loro e avevo dimostrato attraverso fenomeni di potenziamento, eccetera, che tutto il modello che noi adottiamo per valutare la percolosità di una sostanza e dare dei limiti di esposizione sono fasulli, non hanno nessuna validità scientifica. Questo era un concetto che allora non era accettato perché l'OMS, eccetera, ancora adesso ci dà i limiti, ci dice se voi avete le polveri sottili sotto i 30 microgrammi, i rischi sono bassi, se le avete sopra sono alti, l'osso di carbonio così, ecco questa cosa qua non ha nessuna validità scientifica. È solo una modalità per dare delle indicazioni tecniche che però non ci garantiscono affatto che la nostra salute non sia intaccata. Infatti, quell'indagine che avevo condotto aveva portato alla conclusione che i limiti di esposizione ci preservano dall'intossicazione acute dovuta a una certa sostanza, ma certamente non ci preservano dalle malattie croniche degenerative. E che tutte le malattie croniche degenerative di cui soffriamo, malattie cardiovascolari, broncopolmonari, tumori e così via, sono il frutto di questa esposizione, di questa aggressione multifattoriale dell'ambiente, un'aggressione peraltro silenziosa, appunto l'aggressione nascosta, di cui noi non ci accorgiamo e ci accorgiamo solamente quando poi ci ammaliamo, compare la malattia. A un certo punto compare la malattia e ci dicono, ci siamo ammalati, come mai? Ecco, la nostra storia di esposizione pregresse ci può indicare perché ci siamo ammalati. E proprio facendo quel libro e scrivendo quel libro avevo avuto l'idea di fare uno studio poi molto più preciso e curato sui cancerogeni ambientali. Perché avevo fatto un capitolo che aveva come titolo cancerogeni, mutagini e teratogeni e avevo pensato alle varie relazioni che esistono tra tutte queste sostanze che danno effetti diversi e che molto spesso sono le stesse molecole. E allora che cosa appunto avevo avuto come intuizione? Che le sostanze cancerogene somministrate in un periodo ben preciso della gravidanza, che era l'inizio della gravidanza, ovvero l'organogenesi, quando si differenziano tutti gli organi apparati, queste sostanze cancerogene in effetti diversi possono comportarsi come mutagini o come teratogeni, cioè dare origine delle malformazioni o addirittura causare degli aborti a seconda dell'azione che loro potevano avere durante quel periodo. Ma erano sempre le stesse sostanze, perché allora a un certo punto c'è questo effetto? Per rispondere a questa domanda non era così facile allora, perché si trattava di capire un processo fondamentale, e cioè che durante l'organogenesi che cosa avviene? Avviene che da un'unica cellula staminale totipotente, che è l'uovo fecondato, attraverso vari stadi di differenziazione si formano le cellule staminali pluripotenti, multipotenti, oligopotenti e così via, fino alle cellule completamente differenziate. L'idea era stata allora che durante le fasi precise in cui avvengono questi fenomeni di differenziamento, esistono delle sostanze che sono in grado di correggere in parte gli errori che sono prodotti dai cancerogeni nelle cellule, e a seconda del grado di correzione più o meno completo noi possiamo eliminare il rischio di tumore, oppure riparare finché si può, ma non tutto, per cui ancora ci sono degli organi malformati, ma sempre costituiti da cellule differenziate, e quindi lì abbiamo delle malformazioni, o nel caso che le alterazioni indotte da cancerogeni siano troppo gravi e non possono essere tutte riparate, piuttosto che lasciar passare un tumore nella prole, l'embrione autodistrugge tutte le sue cellule, dice alle sue cellule di andare tutti in apoptosi e si ha un aborto spontaneo. Quindi la causa dovuta a un'esposizione a cancerogeni può provocare questi effetti diversi a seconda della gravità delle alterazioni. Però che cosa significava questo? Che l'embrione in qualche modo è in grado di correggere. Ma come fa a correggere? Allora l'idea è stata, al di sopra del codice genetico c'è un altro codice, che oggi chiamiamo infatti epigenetico, che è un codice di regolazione, è un codice in grado di regolare l'espressione genica. Arriva una sostanza che dà una mutazione sul DNA, ma questo codice epigenetico è in grado di correggere questa mutazione e di non lasciarla indurre. Oppure appunto non è in grado di riparare tutto e allora abbiamo gli altri effetti di cui abbiamo parlato. Ma da quel momento in poi appunto l'idea che ho avuto è che dovevo studiare questo codice di regolazione epigenetica. E naturalmente io avevo già pubblicato poi nell'88 un primo lavoro su una rivista abbastanza molto, anzi importante, che è Cancer Letter, e avevo già parlato di questo codice epigenetico, o meglio avevo detto che lo scopo del lavoro che veniva pubblicato lì era quello di dimostrare che i tumori erano malattie reversibili e che le cellule tumorali erano riprogrammabili. Questo significava appunto dire che l'errore a cui una cellula dell'embrione, che è una cellula staminale, va incontro, questa cellula può essere riprogrammata e quindi gli effetti non essere evidenti. L'articolo quindi è stato pubblicato. Io pensavo che fosse allora molto importante perché è passata l'idea, almeno una rivista me l'ha accettata, ma pensavo che poteva andare avanti con successo. Invece non è stato così, perché era troppo presto, era prima degli anni 90, e come sapete durante quegli anni hanno speso un sacco di soldi, centinaia di miliardi di dollari, per sequenziare tutto il codice genetico, perché lo scopo era di trovare tutte le risposte nel DNA. Quando io parlavo di codice epigenetico mi guardavano così dicendo ma poveretto, questo non ha proprio le idee tutte chiare, era un bravo medico, e guardate adesso cosa è, è un'idea eretica. Finalmente poi tutto il DNA è stato sequenziato all'inizio di questo secolo e quando c'è stata l'inaugurazione Clinton ha fatto questo discorso un po' pomposo che quel giorno era molto importante perché finalmente si era capito qual era il linguaggio di Dio, io ho avuto subito l'idea, adesso capirete che quello non è nessun linguaggio di Dio e che dovete andare a cercare altrove perché quella non è la soluzione. In effetti, subito dopo, la comunità scientifica, se vi ricordate, è stato un po' avuto uno sconcerto, e abbiamo cominciato a dire ma come, cioè noi abbiamo sequenziato tutto il genoma, pensavamo che il genoma fosse la centrale cellulare che controllasse tutta la vita delle nostre cellule, in realtà non sa fare proprio nulla se non è in qualche modo programmato, ecco il discorso dell'informazione. E allora lì è venuto fuori appunto che sopra questo codice genetico, c'era quest'altro codice che oggi chiamiamo epigenetico e così tutte le ricerche che io avevo già pubblicato in quegli anni in cui parlavo esattamente di questo codice, avevo già fatto allora, nonostante tutte le posizioni, però la vita non è mai per fortuna così, no? Cioè che tutti la pensano allo stesso modo. Ho trovato una società scientifica molto importante, anche allora che pubblicava una rivista che si chiamava Journal of Tumor Marker Oncology, lì ho pubblicato molte ricerche e anche dei numeri monografici in cui appunto avevo già spiegato il modello di cancro, in uno di questi nel 2002, ho fatto un numero monografico su Cancer and Cell Differentiation, a model to explain malignancy, cioè era già spiegato tutto il modello per cui si diceva che i tumori in realtà erano cellule staminali tumorali, che erano cellule staminali alterate con alterazioni genetiche o epigenetiche, ma che queste alterazioni in qualche modo potevano essere riprogrammate dai fattori del microambiente embrionario. Nel 2002 avevo già scritto tutte queste cose, quindi ecco. E però appunto, quindi da quel momento in avanti, diciamo, le mie ricerche sono andate avanti in modo molto rapido e nessuno più ha fatto contestazioni, anzi ho continuato da quel punto in poi a pubblicare interi numeri speciali di riviste ancora più importanti e così via. Per dire appunto che a volte la vita presenta delle difficoltà che però ti salvano dal commettere degli errori. Io durante gli anni 90, se avessi avuto l'appoggio della comunità scientifica e avessi avuto dei soldi per fare le ricerche come avrei voluto farle, io avevo una mentalità, una cultura uguale a tutti gli altri medici. Voglio dire, no, all'università mi hanno insegnato una visione molto riduttiva e riduzionista e io quella conoscevo. Ma non avendo questa possibilità di fare le ricerche in questo modo, allora ho dovuto aguzzare l'ingegno e risolvere i problemi mentalmente. E questa è stata la fortuna che mi ha impedito di sbagliare, quindi come vedete gli ostacoli a volte sono delle opportunità. Allora che cosa ho cominciato a pensare? Ho cominciato a pensare, ecco, che cosa avviene per esempio nella prima fase di differenziazione quando da una cellula staminale totipotente, che è l'uovo fecondato, si formano tre pluripotenti che sono l'ectoderma, l'endoderma e il mesoderma. Allora, cosa succede in quella fase lì? Che da un'unica cellula madre con tre programmi diversi si formano tre cellule figlie. Ma queste tre cellule figlie rispetto alla madre e ciascuna rispetto alle altre è differente per decine o centinaie di geni differentemente espressi. Non so se mi spiego. Ogni processo di regolazione e di differenziazione è un salto quantico, è un salto quantico per cui ad ogni salto differenziativo ci sono decine e centinaia di geni che vengono contemporaneamente spenti o accesi in modo diverso. Così che le cellule figlie sono diverse per programmi diversi, per un'informazione che è stata trasferita in modo completamente diverso. E allora, se questa era la situazione, mi sono chiesto ma che senso ha a questo punto che io vado a trovare le molecole? Non ci sarà nessuna molecola che è in grado di trovare un bit di informazione, non mi dà nulla, non mi dà questa possibilità di controllare l'espressione genica. Devo usare programmi informativi. E da lì non ho più sbagliato. In effetti, non ho sbagliato, anche perché quel libro che avevo scritto per le Feltrinelli tanti anni prima mi era servito, perché io avevo già acquisito una mentalità complessa. Una mentalità che teneva conto di tutte le possibilità e di tutte le informazioni e capiva benissimo che appunto quello che avevi descritto prima nella tua relazione era la realtà. che era ben diversa da quella che io avevo studiato e mi era stata insegnata. E da allora ho cominciato appunto a pensarli in modo diverso. Ho fatto parecchi convegni, per esempio qui a Milano, con quelli dell'Istituto di Santa Fe della Compressità, che è il più importante istituto del mondo. Era venuto anche un Nobel qui a Milano, anzi Gelman era, che poi era quello della teoria dei quark, quindi un Nobel importante, quello che si è inventato e che ha descritto appunto il sistema classico del funzionamento delle molecole e degli atomi. Quindi Gelman, con lui poi ho scritto anche un libro che si chiama appunto Complessità e Biologia, che era pubblicato Mondadori, ed allora appunto tutte le ricerche sono state fatte con questa nuova ottica, con questo nuovo pensiero, con questo cambio di paradigma e passando dal riduzionismo alla complessità e dalla nozione organicista della medicina a una visione appunto quantistica, per cui alla base della vita c'è un'informazione ben precisa. E questo è quello che appunto ha detto il professor Caddeo e che condivido pienamente, bisogna distinguere bene l'energia dall'informazione e l'informazione in realtà è quello che dà la forma a tutto quanto e ci permette che noi viviamo su questo pianeta e permette la vita in tutto l'universo ed è quello che l'informazione è quella che ha informato tutto l'universo, tutte le cose dell'universo esistono perché esiste l'informazione. Adesso verrà pubblicato tra poco negli Stati Uniti un libro che ho scritto con l'Aslo e che ha come titolo proprio questo, l'informazione è la base della vita, i nuovi paradigmi in medicina, bla bla bla, ci sono, c'è Ciopra ha fatto la prefazione, Dossi ha fatto altre cose, insomma è venuto fuori un bellissimo libro in cui quest'idea che tu hai espresso è descritta in modo proprio chiaro e preciso e puntuale. Quindi avete capito che tutto questo era possibile cambiando la visione che noi abbiamo della vita, la visione che abbiamo del mondo e dell'universo e la visione che abbiamo dell'origine di tutte le cose. In effetti quella che noi stiamo utilizzando come terapia epigenetica che si chiama così è una terapia di informazione, informazionale. Sono terapie informazionali, noi cerchiamo di trasferire alle cellule che hanno un comportamento sbagliato basato sull'informazione sbagliata un'informazione corretta in modo da metterle e condurle sulla retta via. Questo è il concetto. E come abbiamo fatto allora per fare questo? Naturalmente questi qui erano i presupposti teorici ma poi bisognava avere la dimostrazione scientifica perché poi la medicina ti chiede di ripetere gli esperimenti e che gli esperimenti siano sempre quelli e che alla fine hai sempre gli stessi risultati. E allora abbiamo dovuto fare una fatica molto grande e fare tutto l'iter richiesto perché non potevamo sottrarci. Quello che abbiamo fatto intanto è stato scegliere il tipo di embrione da studiare. I modelli da studiare sono questi, essenzialmente la drosofila melanogaster che è un moscenio della frutta che però è molto distante filogeneticamente dall'uomo. Poi c'è il cenorabditis elegans che è un verme nematode che anche lui è molto lontano. Poi c'è lo xenopus levis che adesso stiamo studiando anche quello e che è la rana che è un embrione che è molto interessante ma molto più difficile all'inizio per noi da tenere, da coltivare diciamo, da allevare dello zebrafish del brachidane orerio che è lo zebrafish questo porciolino tropicale zebrato di cui noi già conoscevamo in quel periodo i primi anni 2000 i vari momenti del differenziamento quindi avevamo le nozioni già sui vari stadi di differenziazione sapevamo come allevarlo a più del 95% di proteine che sono le stesse della specie umana per tutti questi vantaggi abbiamo scelto lo zebrafish e non abbiamo scelto un mammifero un embrione di mammifero perché dopo i primi esperimenti che abbiamo fatto sui topolini sui mammiferi abbiamo visto che l'informazione che viene trasmessa all'embrione è molto più complessa rispetto all'informazione che ha un oviparo l'oviparo l'oviparo quindi lo zebrafish nel momento in cui l'uovo viene depositato dalla femmina e fecondato dal maschio in quel momento l'embrione ha già in sé tutta l'informazione per auto-organizzare la propria vita non gli serve nient'altro c'è là giù c'è il programma c'è la giacola c'è il programma ben preciso che viene attuato fino alla fine invece nel mammifero ci siamo accorti che la cosa è molto più complessa perché non è solo l'embrione che ha le informazioni ma anche la madre partecipa a organizzare la vita dell'embrione e abbiamo appunto isolato dei fattori dall'utero materno che hanno un'importanza fondamentale nel controllo della crescita dell'embrione e nel controllare gli errori a cui l'embrione va incontro quindi nei mammiferi il problema è molto più complesso in quanto l'informazione dell'embrione non è completa e anche la madre partecipa a completare questa informazione mettendoci sostanze specifiche che lei produce nell'utero e per esempio abbiamo isolato questa frazione proteica basso peso molecolare che abbiamo chiamato life protecting factor che sono proteine che la mamma l'utero materno produce quando gli errori dell'embrione sono così gravi che l'embrione rischia di diventare una mola vescicolare invece che differenziarsi completamente diventa poi un tumore ecco che la dimostrazione che i tumori sono cellule staminali perché se un embrione non viene differenziato ecco l'unico l'unico sbaglio l'unico tumore che si può formare gli oviferi non formano mai tumori ma nei mammiferi sì perché l'embrione nel mammifero non ha tutta l'informazione per autoorganizzarsi e autoorganizzare la propria vita ma ha bisogno della madre e se la madre non ha queste sostanze protettive la gravidanza va male e può dare un esito brutto come una mola vescicolare e quindi era la controprova questa che da cui eravamo perché l'idea originaria era che le cellule tumorali sono cellule indifferenziate quindi sono cellule staminali tumorali e questo concetto allora era un concetto nuovo nel 2000 2002 ma poi nel 2007 è venuto fuori che alla base di tutti i tumori cioè della malignità proprio del tumore quella che è mastastatizzata eccetera eccetera sono cellule staminali tumorali quindi è stato confermato tutto questo dato e poi che queste cellule sono riprogrammabili ecco ancora adesso su questo si discute ma ormai le evidenze scientifiche sono così tante che abbiamo portato per cui nessuno più le mette in discussione e allora vediamo rapidamente come cosa abbiamo fatto allora come vi ho detto abbiamo preso l'embrione di zebrafish abbiamo individuato i cinque momenti in cui si differenzia da cellule staminali totipotenti a pluripotenti da pluripotenti a multipotenti da multipotenti oligopotenti da oligopotenti a cellule in via di differenziazione definitiva e poi da cellule in differenziazione definitiva completamente differenziate cinque stadi abbiamo preso le varie sostanze presenti in cinque stadi e sono per il 98% proteine a basso peso molecolare qui vedete i diversi pesi molecolare di queste proteine il 50% hanno un peso inferiore a 40 kg dalton e il 50% tra 40 e 97 kg dalton e poi con un lavoro molto lungo di spettrometria di massa abbiamo individuato ogni singola proteina facente parte del network queste proteine come vedete le prendiamo dall'embrione di zebrafish ma sono le stesse molecole della specie umana queste sono proteine del nostro corpo non sono diverse sono fattori molto importanti che regolano il metabolismo mitocondriale ecco ancora che ritornano fuori i mitocondri sono sciaperonine che sono importanti per la comunicazione intercellulare sono sostanze sono proteine dello shock termico che sono importanti per la risposta immunitaria insomma sono un network di proteine che sono essenziali per la vita della cellula e per il metabolismo cellulare quindi queste vedete sono una serie di numerose proteine per individuarle una a una non è stato così facile tenete conto poi che per alcune come queste qui che hanno gli asterischi le abbiamo descritte per la prima volta noi perché non erano mai state prima descritte nell'embrione di zebrafish quindi è stato un lavoro piuttosto lungo e abbiamo utilizzato questi fattori per quindi proteine e acidi nucleici 2% sono 98% proteine 2% sono microRNA essenzialmente con attività regolatoria e abbiamo trattato tumori umani perché come avete capito noi le prendiamo dall'embrione di zebrafish ma sono le stesse molecole del nostro corpo e allora voi mi chiederete ma che senso ha una terapia che utilizza le proteine del nostro corpo per curare i tumori invece c'ha proprio senso perché uno va incontro a un tumore dopo che ha esaurito tutti i fattori di correzione che fanno parte del suo patrimonio genetico e che danno luogo alla diversa suscettibilità a ammalarsi più o meno di tumore quindi uno durante la vita va incontro appunto per l'esposizione che diceva di cui parlava oggi Giorgio e di cui mi sono interessato ha un sacco di alterazioni di mutazioni che vengono via via corrette finché però ha la possibilità di correggere quando ha consumato tutto non può più correggere e allora viene indotto un tumore a questo punto lui non è più in grado di correggere i suoi danni e questa terapia che ha significato allora lui non sa più fare questo lavoro lo facciamo noi per lui quindi è una terapia sostitutiva in un certo senso come il diabete in cui manca l'insulina gli date l'insulina e gli date il diabete qui è molto più complesso che curare il diabete perché come avete capito sono tanti geni alterati nel cancro negli celli tumorali tanti geni e ci sono anche tante alterazioni epigenetiche per cui per correggere tutte queste alterazioni noi dobbiamo utilizzare programmi specifici di differenziazione e qui noi utilizziamo il primo programma vedete nel glioblastoma multiforme col primo programma di differenziamento noi riusciamo a bloccare la crescita dell'80% il melanoma 40% la mammella qui 40% ma poi vedrete questo è un tumore ben differenziato vedete che cresce molto poco rispetto agli altri questi crescono a una quella in blu sono i controlli non trattati gli altri sono i trattati vedete si passa da 10.000 cellule noi qui nelle ordinate moltiplicate per 10.000 noi mettevamo in una capsula petri poi seguivamo lo sviluppo 24-48 ore vedete che qui passa da 10.000 a 60.000 cellule e quindi è un tumore che si sviluppa in modo aggressivo mentre la mammella passa da 10.000 a 13.000 quindi è ben differenziato e qui viene rallentato poco ma con i fattori delle fasi finali viene rallentato molto di più questo tumore quindi stiamo imparando che ogni tipo di tumore viene regolato meglio da specifici regolatori a seconda del grado di malignità che ha questo tumore e qui vedete la leucemia linfoblastica acuta che è molto aggressiva viene rallentata praticamente al 100% l'adenocarcinoma del rene viene rallentata per il 35% a 48 ore ma non a 24 ore e tra poco capiremo perché ecco queste sono le altre fasi del differenziamento vedete la mammella come vi dicevo in questo caso la curva di crescita viene molto rallentata da questi fattori delle fasi intermedie finali tant'è che a 24 ore addirittura non c'è solo un rallentamento ma una decrescita della curva quindi il tumore regredisce in parte e avanti così ma perché c'è questo rallentamento perché come vi avevo detto l'ipotesi di partenza era che questi fossero dei regolatori epigenetici e che quindi potessero controllare l'espressione genica e noi siamo andati a vedere se era vero e uno dei primi geni che abbiamo studiato era l'oncorepressore P53 vedete qui noi l'abbiamo valutato con citoflottometria quindi in modo quantitativo e in effetti c'è un'attivazione di questo gene P53 nelle cellule del glioblastoma ma vi rimane più impressa questa figura forse queste sono le cellule del glioblastoma multiforme prima del trattamento la proteina P53 che è il trascritto di questo gene oncorepressore P53 è questa qui colorata in rosso vedete questo è prima del trattamento e questo è dopo il trattamento vedete che c'è un aumento molto importante significativo della concentrazione della proteina P53 che cosa significa? Significa che il gene oncorepressore P53 non era attivo nel glioblastoma dando i nostri fattori l'abbiamo attivato lui ha sintetizzato la proteina P53 la proteina P53 ha bloccato il ciclo cellulare delle cellule del glioblastoma poi ha fatto due cose ha tentato di riparare i danni che sono l'origine della malignità e se i danni non erano troppo gravi ed erano riparabili venivano effettivamente riparate le cellule si differenziavano e noi abbiamo visto questo differenziamento attraverso un aumento dei markers del differenziamento come le caderine pari al 100% ma abbiamo osservato anche la poptosi cioè la morte cellulare programmata quindi il meccanismo è se io riparo e riesco a differenziare ok se non ce la faccio differenziare piuttosto che lasciare andare avanti la cellula tumorale attivo i geni della morte cellulare programmata quello che avviene nell'embrione avviene anche qui nelle cellule tumorali che sono cellule staminali tumorali sono cellule molto simili alle cellule staminali dell'embrione ma a differenza di quelle hanno queste alterazioni genetiche epigenetiche per cui continuano a moltiplicarsi in pratica la definizione di cellula tumorale è una cellula staminale alterata con alterazioni genetiche epigenetiche bloccate in una fase di differenziazione compresa tra due fasi di una fase di moltiplicazione compresa tra due fasi di differenziazione questa cellula non sa più fare tutto il programma di differenziazione perché le mancano le informazioni cioè le informazioni della parte del programma che la differenzia quindi ci ha disaccoppiato il programma della moltiplicazione con quello del differenziamento se noi forniamo il programma del differenziamento i due programmi vengono riaccoppiati e la cellula continua il suo percorso e si differenzia questo è il senso vedete stiamo parlando esattamente quindi della informazione cioè noi gli diamo delle molecole che trasferiscono un'informazione ben precisa e che regolano quei geni che permettono che la cellula vada avanti nel processo di differenziazione questa è la terapia epigenetica mentre nel nel tumore del rene nell'adenocarcinoma del rene come vi ricordate a 24 ore noi non rallentavamo a 48 ore sì allora siamo andati lì P53 non era inducibile siamo andati a vedere perché comunque c'era questo comportamento di questo tipo nel tumore del rene e l'abbiamo capito perché abbiamo studiato la proteina del retinoblastoma il retinoblastoma sapete è uno di un tumore raro che è presente già fin da eredità questo qui è ereditato fin dalla nascita è presente dalla nascita noi di solito ereditiamo la suscettibilità ad ammanarci ma non il tumore questo invece si eredita perché già le alterazioni sono presenti dalla nascita nei due alleli e questa alterazione comporta un'alterazione di questa proteina del retinoblastoma che è un fattore molto importante per il controllo del ciclo cellulare questa proteina viene chiamata infatti fattore di restrizione del ciclo cellulare e quando non è fosforilata blocca un gene che si chiama E2F per cui essendo bloccato quel gene non viene espresso e il ciclo non parte quando la proteina viene fosforilata invece si stacca dal gene il gene viene trascritto il trascritto va a fosforilare le cicline e parte il ciclo cellulare e non si ferma più fino al ciclo successivo per cui questa proteina è molto importante si chiama fattore di restrizione del ciclo perché a seconda che sia fosforilato no blocca o non blocca il ciclo ecco noi qui dimostriamo che facciamo passare questa proteina dalla forma fosforilata a quella non fosforilata vedete questo qui sono i controlli ci sono tutte le due forme fosforilate alla proteina e quelle non fosforilate a 24 ore non è cambiato nulla ma a 48 ore le forme fosforilate sono sparite e sono rimaste solo le non fosforilate questa si chiama regolazione post traduzionale della proteina vuol dire che la proteina era già stata tradotta a livello ribosomiale quindi la sequenza amminocidica era quella lì e non è cambiata ma quello che è cambiato è stato il rapporto tra forma fosforilata e non fosforilata a favore della non fosforilata in modo che ha bloccato il ciclo cellulare quindi diciamo le regolazioni epigenetiche sono molto complesse e sono diverse c'è la regolazione trascrizionale una regolazione post trascrizionale che avviene perché appunto il diciamo così c'è uno splicing alternativo del del RNA messaggero nel nel DNA voi sapete che ci sono delle parti che sono gli introni e altri che si chiamano esoni e uno viene letto e l'altro no ma quando si forma l'RNA questo legge tutto introni e esoni e si forma un pre-RNA che non è maturo non è quello definitivo ma che c'è dentro tutte esoni e introni poi questo va incontro a vari tagli splicing e a varie congiunzioni per cui dai tagli alle congiunzioni possono derivare più RNA che danno origine a molte diverse proteine quindi il dogma della biologia un gene una proteina salta tutto con lo splicing ci sono c'è il moscerino della frutta la drosofila melanogaster in cui c'è un gene che è in grado di sintetizzare 3.000 diverse proteine quindi figuratevi cioè quindi vuol dire che c'è 3.000 splicing diversi quindi vedete com'è complessa la vita e come gli organismi nel loro diverso grado di complessità non sono molto differenti per quanto riguarda il codice genetico in fondo quando hanno sequenziato tutto il codice genetico si aspettava di avere 80-100.000 geni insomma perché le proteine sono 100.000 hanno detto più o meno non c'è una proteina dobbiamo aspettare hanno trovato che erano 23.000 geni che andavano a sintetizzare sono rimasti tutti lì e dico adesso cosa succede allora succede che un gene ha più proteine ha molte diverse proteine e che la complessità degli organismi viventi non è dovuta alla complessità del genoma ma è la complessità dei processi informativi regolatori trasferiti dal codice epigenetico quindi hai l'informazione ancora una volta che conta e conta appunto la medicina quantistica come dicevamo adesso capirete meglio per esempio con lo studio della neurodegenerazione come questi programmi informativi sono proprio informazione pura e se voi la spezzettate questa informazione non spezzettate il programma non funziona più cioè i pacchetti di programmi che vengono trasferiti alle cellule funzionano come delle app sono delle applicazioni vere e proprie quando voi dovete scaricare un'app dal computer o scaricate tutto il programma dell'app e ce l'avete lì ma se non scaricate tutto il programma l'app mica ce l'avete così funziona la vita se voi non scaricate l'informazione e quindi dicevamo ogni salto differenziativo è un salto quantico perché sono decine e centinaia di geni che sono contemporaneamente regolati e per riregolare e riprogrammare quei geni io gli devo dare un programma che è in grado di fare quello e se non è completo non lo fa quindi è il ragionamento opposto di quello che il riduzionismo scientifico ci ha fatto imparare ci ha fatto studiare per tutta la vita e che purtroppo fa studiare ancora adesso i medici perché i medici giovani sono molto più radicali e chiusi di noi che appunto durante la vita poi uno impara che le cose vanno in modo diverso da quello che ci hanno insegnato ma l'università insegna ancora così e quindi capite che è dura combattere ancora contro una mentalità molto riduttiva che fa parte ancora della qui poi è il modello di cancro che vi dicevo in cui diciamo così qui così a seconda del grado di malignità qui era il modello cancer and cell differentiation la model in cui dicevo che in ogni tumore ad esempio non c'è mai un unico clone cellulare sono a volte molte più cloni ed è difficile a volte regolare un tumore perché sono cellule diverse bloccate in diversi stadi di differenziazione quindi a seconda del grado di malignità del tumore noi abbiamo diversi tipi di malattia alla fine abbiamo pure calcolato il numero completo di malattie tumorali perché siamo riusciti a fare un modello matematico che ci predice esattamente quante sono le cellule differenziate e questo è semplice lo capite subito perché come abbiamo detto nel primo passaggio differenziativo da una cellula madre si formano tre cellule figlie gli stadi di differenziazione sono cinque facciamo un ragionamento che in ogni stadio da ogni cellula madre con tre programmi diversi si formano tre figlie diverse alla fine il numero di cellule completamente differenziato è dato da una potenza che ha per base tre per esponente cinque tre alla quinta fa duecentoquarantatré che sono il numero di cellule somatiche del nostro corpo a queste se noi aggiungiamo le cellule germinative cioè le cellule del testicolo e dell'ovaio che si differenziano per una via diversa rispetto a quelle somatiche cioè già dalla morula alla gastrula si formano i tre foglietti e le cellule germinative vanno via per una via diversa di differenziazione rispetto alle somatiche quindi dobbiamo sommare le cellule germinative che sono nove tipi diversi sono ogonio ocita di primordine secondordine cellula uovo spermatogonio spermatocita di primordine secondordine spermatidi spermatzoi 243 più 9 fa 252 sapete quante sono le cellule differenziate nel nostro corpo? 252 cioè quindi con un algoritmo molto semplice l'informazione poi in una complessità enorme l'informazione è semplice tu ripeti cinque per cinque stadi tre i problemi e hai tutto vedi lì là è così è come il leg sono cose che vengono ripetute e l'informazione e voi capite che qui secondo il grado di malignità allora noi abbiamo se la definizione di cellula tumorale è una cellula staminale bloccata in una fase di differenziazione noi abbiamo in base alla gravità dei tumori tre tipi di tumori estremamente aggressivi che sono costituiti da cellule pluripotenti alterate nove cellule multipotenti costituiti da cellule staminare appunto multipotenti alterate 27 tipi di oligopotenti alterate e 81 tipi in pratica sono 120 tipi di tumori diversi in cui a seconda del grado di malignità voi vedete tutti i tipi tre tipi nove tipi 27 tipi e avanti così a cui se noi associamo il corion carcinoma il teratocarcinoma e le cellule che derivano dal testicolo tumorale che derivano dal testicolo dall'ovaio abbiamo circa 130 malattie diverse e in queste 130 malattie in rapporto alle diverse malignità avete tutte l'albero in modo che voi sapete come trattarle per riprogrammarle per dargli informazione precisa perché se no non gliela date precisa adesso andiamo veloci questi qui sono i casi clinici che non vi descrivo comunque ci sono casi di regressione completa questo qui era uno studio sull'epatocarcinoma che su 179 casi che noi abbiamo fatto dal 2001 al 2004 e che erano casi avanzati dove non c'erano più altre terapie possibili abbiamo avuto ancora il 20% di regressione 16% di non progressione quindi alla fine abbiamo dimostrato che l'informazione non è una parola vuota ma ha un preciso significato anche in clinica cioè qui così noi gli abbiamo dato questi fattori qui vedete per esempio questo qui è un tumore multifocale guardate quanti noduli dopo sei mesi guardate non c'è più niente queste qui sono solo arterie prese di infilata Livraghi che ha fatto con me questo studio ha chiamato questo effetto vanishing effect perché voi vedete che il tessuto neoplastico è stato sostituito dal tessuto normale mentre lui è stato il primo nel mondo a fare la termoblazione ma quando faceva la termoblazione si vedono gli esiti perché c'è una necrosi e poi una fibrosi qui invece non c'è niente è sparito tutto il tumore è sparito e il tessuto normale ha sostituito quello malato è incredibile ma è così quindi questa è l'informazione queste sono le curve di sopravvivenza tra chi è stato trattato e noi vedete c'è una bella differenza qui sono compresi anche i casi di non progressione non solo i casi di regressione e adesso qui vediamo un attimo di farvi capire meglio l'importanza dell'informazione ecco qui vedete tutti gli stadi di differenziazione delle cellule staminali 5 stadi noi appunto con Ventura ieri sono stato ancora da Ventura andiamo avanti adesso a fare gli studi su tutto il codice epigenetico perché quello che abbiamo capito che avevo capito già in quel periodo è che ho avuto una grande fortuna la fortuna è stata non solo di intuire che nel codice genetico c'era un codice che oggi chiamiamo epigenetico ma la fortuna è stata doppia perché ho avuto la possibilità di studiare questo codice epigenetico nell'embrione cioè nell'unico momento della vita in cui il codice epigenetico è completo quel codice lì è in grado di regolare tutti i geni di tutte le cellule di tutto il nostro corpo e solo in quel momento lì c'è questa capacità perché quando è finito il processo di differenziazione cellulare e si sono differenziati tutti gli organi apparati questo codice epigenetico viene suddiviso in ciascun organo e apparato e controlla la fisiologia delle cellule di quell'organo ma non è più in grado di controllare tutti i geni di tutte le cellule di tutto il nostro corpo cioè sono in quel momento là allora abbiamo detto adesso studiamo le funzioni di tutto il codice per farla breve adesso facciamola breve allora c'è una parte del codice che sa tenere accesi i geni staminali la prima parte ancora prima del differenziamento in cui noi da una cellula mesenchimale staminale che è una cellula adulta che noi prendiamo dal tessuto adiposo Bologna il professor Ventura ha fatto un brevetto di purificazione isolamento di queste cellule staminali mesenchimali adulte e quindi abbiamo trattato queste cellule con tutti i nostri fattori e abbiamo visto tante cose interessanti vedete che l'utilizzo di queste cellule è amplissimo perché può andare dalle malattie del sangue osteoporose osteoartrite la rigenerazione del cuore il diabete cirrosi Parkinson Alzheimer e così via la rigenerazione maculare cioè tutto cioè tutta la medicina anti-aging rigenerativa passa attraverso questa via a questo punto la medicina ufficiale che ha sbagliato il paradigma e ragioni in termini riduttivi vuol curare malattie complesse come il cancro e come l'Alzheimer e il Parkinson con singole molecole con bit di informazioni non va da nessuna parte con il cancro attraverso appunto l'utilizzo di sostanze tossiche vabbè le distrugge e allora un certo risultato li ha con effetti collaterali importanti ma ci sono ma nel Parkinson e nell'Alzheimer dove non sanno a che santo votarsi hanno speso un mucchio di soldi e la Pfizer che è la più grande diritta farmacente si ha ritirato ultimamente ha detto no basta sull'Alzheimer non faccio più niente perché non so da che parte andare ma non sa da che parte andare perché ha sbagliato il paradigma ha sbagliato il modo di concepire la vita e come si organizza perché se noi invece concepiamo la vita in questo modo vedete che sappiamo dove andare perché qui adesso vi faccio vedere cosa succede ecco qui è quello che tra l'altro Ventura è un cardiologo stiamo studiando la rigenerazione del cuore dopo un infarto questi sono i trattamenti di bellezza che fanno ma noi abbiamo delle creme abbiamo messo a punto anche delle creme che funzionano in questo modo che sono anti-aging funzionano molto bene ma volevo farvi vedere questo della neurodegenerazione per farvi capire meglio come funziona la vita e il concetto di informazione che il professor Cadeo ci ha portato avanti allora noi abbiamo studiato le cellule dell'ipocampo che sono quelle che vanno per prima in degenerazione nell'Alzheimer e abbiamo trattato queste cellule che sono delle sostanze neurotossiche come l'N-methyl di aspartato a vari dosaggi diversi 50 micromoli 300 micromoli e contemporaneamente abbiamo fatto il confronto tra i controlli e i trattati con i nostri fattori di differenziazione e qui abbiamo capito come funziona la vita allora vi riassumo in breve inutile che vi faccia vedere le cose però i risultati sono lì poi se volete li vediamo la vita funziona così noi come avete capito avevamo individuati cinque stadi di differenziazione e in ogni stadio è già un programma è già un network di molecole che si è finito un network di molecole che funziona come tale come programma se noi gli davamo a queste cellule in via di degenerazione questi singoli programmi sì avevamo un certo risultato una diminuzione della neurodegenerazione per il 22-25% ma non era non ci potevamo accontentare allora il ragionamento qual è stato ma noi qui per impedire la neurodegenerazione e riportare le cellule al loro stato di salute normale che cosa dobbiamo fare? una cosa molto diversa rispetto a quello che facciamo nei tumori perché là gli diamo il programma che differenzia fine della trasmissione qui no noi prima qui dobbiamo tenere attivo il serbatoio delle cellule staminali quindi accendere i geni staminali ma poi quando abbiamo tenuto attivo questo serbatoio di cellule staminali lo dobbiamo differenziare in cellule del tessuto nervoso cioè in cellule dell'ipocampo piuttosto che del talamo dell'ipotano eccetera eccetera quindi che cosa dobbiamo fare? dargli tutto il programma che la vita utilizza per auto organizzarsi tutto il programma dall'inizio alla fine gli dobbiamo dare il codice epigenetico completo e se noi gli diamo tutta l'informazione cioè i cinque stadi insieme abbiamo la prevenzione del 78% della neurodegenerazione e questo ci insegna quello che tu ci stavi dicendo che la vita è basata proprio sull'informazione grazie 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 a tutti grazie a tutti